Fratelli e sorelle del Signore, questa sera voglio portarvi un messaggio, un messaggio che riguarda la verginità di Maria però esaminata secondo le scritture. Quindi andiamo a prendere il Vangelo di Matteo. Cominciamo dal Vangelo di Matteo al capitolo 1 al capitolo 1 dal versetto leggiamo per adesso dal versetto 21. Ed ella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco la vergine sarà incinta e partorirà un figliuolo al quale sarà posto Emanuele che interpretato vuol dire il Dio con noi e Giuseppe destatosi dal sonno fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Quindi Giuseppe meditava nel suo cuore di lasciare, di fuggire, di scappare da Maria perché? Perché sapeva che era incinta ma lui non era stato, non sapeva chi era stato. Allora per non esporla ad infamia voleva fuggire, voleva fuggire lui. Perché questo? Perché se la denunciava quella donna sarebbe, avrebbe passato i guai, l'avrebbero lapidata, sarebbe morta come fornicatrice, come adultera. Però non riusciva neanche a rimanere lì e sposarla. Allora lui cosa pensò? Pensò di abbandonare Maria nel suo cuore perché? Perché lui ha detto se Maria è rimasta incinta ci sarà pur qualcun altro, no? Perché inizialmente Giuseppe non sapeva che l'opera di concepimento era stata compiuta dallo Spirito Santo. E quindi che cosa pensava? Pensava normalmente a un uomo, ma lui che era uomo giusto non voleva che gli succedesse male, benché si sentisse tradito in cuor suo, non voleva che gli succedesse del male. Allora cosa ha pensato? Ha pensato se io scompaio poi Maria, che era stata promessa sposa a me, la dovranno pur far sposare con qualcun altro e quindi si sposerà magari con quella persona con cui lui pensava che si fosse congiunta. Ecco era l'unica soluzione, perché non la poteva denunciare, non la voleva prendere per sposa. E cosa ha pensato? Ha pensato me ne vado io, cioè mi tolgo di mezzo tra i tre interessati, mi tolgo di mezzo io così, i due si possono mettere assieme. Lui non deve spiegare perché non la sposa più e quindi sarebbe scomparso e tutti sarebbero stati salvi. Quindi quello che Giuseppe ha pensato era una grande cosa, però non era una cosa che veniva da Dio, cioè non era secondo la volontà di Dio che Giuseppe fuggisse, ma doveva diventare lui lo sposo di Maria. Ecco quindi che gli appare un angelo e gli dice le cose che abbiamo letto in precedenza. Quindi cosa gli ha detto? Tra le cose che gli ha detto l'angelo c'è questo, che si dovevano adempiere le scritture. Quindi in questa maniera che è stato presentato dall'angelo a Giuseppe si dovevano adempiere le scritture. Quale scritture? Cosa dicevano queste scritture? Queste scritture come si legge nel profeta Isaia al capitolo 7, al capitolo 7, al versetto 14, si legge. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco la giovane concepirà, partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele. L'angelo cosa gli disse a Giuseppe? Gli disse ecco la vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele. Quindi si dovevano adempiere le scritture che doveva nascere Gesù, doveva nascere Emanuele, Dio con noi. Nel profeta Isaia la differenza, lì c'è scritto giovane, però da notare c'è al posto di vergine è scritta una giovane, va bene? Però siccome poco prima è scritto il Signore vi darà un segno, noi sappiamo bene che tutte le giovani donne possano rimanere incinte. Il problema, il segno di Dio potente e glorioso che doveva manifestarsi in maniera particolare, qual era? Il segno particolare era che doveva rimanere incinta la vergine, ecco dove sta il segno. Questo adempimento delle scritture potenti erano queste. Quindi una vergine, il segno qual era? Che una vergine doveva concepire doveva concepire, cioè doveva portare nel suo grembo la gravidanza e un bambino da vergine e questo era il segno potente che Dio dava al suo popolo. Come scritto? Leggiamo anche Matteo 1,18. Come doveva avvenire? Come doveva avvenire questo concepimento? Questo concepimento doveva avvenire come scritto al capitolo 1, versetto 18 di Matteo. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. quindi prima che venissero a stare insieme marito e moglie Giuseppe e Maria prima rimase incinta. Questo lo venne a sapere anche Giuseppe e lì che scattò il fatto in lui, il pensiero che non era convinto. Solo un angelo quando gli apparve gli spiegò cos'era successo. Era in virtù dello Spirito Santo. Quindi non c'era stata nessuna rottura, diciamo, della verginità da parte di nessuno. Ma la potenza dello Spirito Santo aveva agito interiormente a Maria, quindi nessun rapporto carnale di nessun genere con nessuno. Ma solamente che la potenza dello Spirito Santo aveva adombrato Maria, aveva toccato Maria e potentemente, secondo la gloria di Dio, con questa grande potenza, ecco che Maria è rimasta incinta. Quindi nessuna, nessuna, diciamo, rottura della verginità. Rimase vergine, ma era incinta. E questa è la prima parte che si legge nell'adempimento delle scritture. Quindi la prima parte importante nell'adempimento delle scritture è questo, cioè che Gesù doveva essere concepito senza rapporti carnali. Doveva essere concepito senza il peccato, praticamente. Perché? Perché, ad esempio, si legge nel Salmo 51, andiamo a leggere il Salmo 51, cosa dice il salmista? Il salmista scrive queste parole. Salmo 51, Salmo di Davide, 51 al versetto 5 dice Ecco, io sono stato formato nella iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Quindi la venuta di Gesù doveva essere, dovendo essere Gesù perfetto, quindi non contaminato da nessun peccato, per essere il sacrificio perfetto per la remissione dei nostri peccati, non doveva nascere attraverso il peccato, ma doveva nascere in maniera pura. Siccome qui il salmista dice che c'è del peccato nel formare, nella formazione normale tra il rapporto di marito e moglie, nella formazione di un bambino si commette il peccato. C'è comunque della iniquità. Infatti lo spargimento del seme umano, maschile anche nella legge, era segnato, diciamo, era, era, cioè faceva diventare impure le persone che ne venivano a contatto. Ora, siccome il peccato doveva stare lontano da Gesù, già al suo concepimento, ecco quindi che si adempì il segno, la scrittura che Dio aveva promesso che sarebbe la vergine, sarebbe rimasta incinta. Quindi qui il peccato è lontano, già dal concepimento di Maria, il peccato non sia neppure avvicinato a Maria. Un'altra parte, un'altra parte importante da considerare delle scritture è che non solo c'è scritto nella parola che la vergine sarebbe rimasta incinta, ma dobbiamo leggere anche il fatto che la vergine avrebbe partorito un figliolo. Perché questo? Cosa vuol dire? Vuole dire semplicemente che se la vergine partorisce, perché voi sapete che, diciamo, anche quando una donna è incinta ed abita con suo marito, può avere dei rapporti normali. Quindi anche se Maria è incinta, va bene, la situazione è questa, Maria è incinta, va quindi a vivere con Giuseppe perché Giuseppe la prende con sé, ha cambiato idea perché l'angelo gli ha fatto cambiare idea, gli ha portato il messaggio da parte di Dio. Giuseppe cambia idea e l'accoglie a vivere con sé. Ma cosa dice la scrittura? Al versetto 25 dice non la conobbe finché non ebbe partorito un figliolo. Va bene? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Giuseppe non la conobbe neanche in quei nove mesi che lei andò a vivere con lui. Quindi non solo Maria rimase incinta con un segno potente di Dio e rimase vergine al concepimento, ma quando partorì Maria, partorì che era ancora vergine. Quindi quella, diciamo, che cosa ruppe la verginità di Maria? Cos'è che ruppe la verginità di Maria? La verginità di Maria è stata rotta dal passaggio della nascita del fanciullo che è Gesù. Quindi lì si ruppe la verginità. Capite? Quindi la cosa importante da considerare è che Maria rimase, secondo le scritture, rimase sì incinta da vergine. Ma attenzione, la sua verginità scritta durò fino alla nascita del fanciullo. Così dicevano le scritture. Così doveva avvenire, perché comunque noi abbiamo parlato che nel concepimento ci poteva essere del peccato. Ebbene, anche nei rapporti successivi al concepimento c'era del peccato nel rapporto tra marito e moglie. C'era una contaminazione, ecco, diciamo così. Ma a Gesù non è stato contaminato da nulla. Egli è stato ed è il sacrificio perfetto che doveva essere immolato nella croce per la remissione dei nostri peccati. Capite? Questa è la prima parte dell'Evangelo. Poi c'è anche la seconda che è importante sempre ricordare anche l'Evangelo, che è questa che, sempre secondo le scritture, egli il terzo giorno risuscitò dai morti e da parve ai suoi discepoli. Quindi chi crede in questo messaggio dell'Evangelo, della morte di Gesù Cristo, della sua risurrezione, secondo le scritture, ecco che crede nell'Evangelo e viene salvato, viene rigenerato spiritualmente e salvato. E questo è il messaggio dell'Evangelo che deve essere annunziato. Naturalmente questo Evangelo deve cominciare appunto dal concepimento di Gesù, cioè il messaggio deve essere creduto anche per quanto riguarda la verginità di Maria, cioè avere un concetto corretto, giusto anche della verginità di Maria. Perché se nell'Evangelo abbiamo che Gesù, il Cristo, è morto per i nostri peccati, noi sappiamo che Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e questo agnello è perfetto, è bastato un sacrificio perfetto per non dover più ripetere nessun sacrificio per il peccato. Ecco quindi, vedete, è importante perché la verginità di Maria nel concepimento e nel partorire Gesù è importante perché ciò serve a non contaminare di peccato in nessuna maniera l'agnello sacrificale per i nostri peccati, il sacrificio perfetto. E tutto ciò è avvenuto secondo le scritture. In questo periodo, quindi fino alla nascita di Gesù, le scritture dicono questo. Ora si apre una questione qui che è bene anche che affrontiamo. La questione qual è? La questione è che taluni dicono che Maria è rimasta sempre vergine. Va bene? Quindi ora passiamo a rispondere a questa questione che Maria rimase sempre vergine. È vero o non è vero? Perché questo, attenzione, non è creduto solo dai cattolici. Era creduto anche da Giovanni Calvino. Era creduto e insegnato anche da Giovanni Diodati. Infatti nei commenti della Bibbia Diodatina, dei commenti del Diodatina, infatti si fa cenno di questo. Cioè per loro, per i calvinisti, Maria è rimasta sempre vergine. Ma ora è una delle giustificazioni che traggono alcuni e nel cercare di dare un significato sbagliato alla parola conobbe. Capite? Ora il fatto che poi è scritto che Maria ebbe altri figlioli, che c'è scritto, capite? Questo è dimostrato comunque che Maria, dopo aver partorito Gesù, ebbe rapporti normali con suo marito. Non c'erano più impedimenti secondo le scritture, perché abbiamo letto che le scritture dicevano che le cose dovevano andare così. Cioè l'acconcepimento e anche il partorire dovevano essere effettuati, dovevano avvenire da una vergine. E quindi non potevano esserci rapporti umani, carnali, col marito in quel periodo, fino alla nascita. Ma dopo il partorire non c'è nessun segno, non c'è nessuna parola, niente che ci possa far pensare che Maria sia sempre rimasta vergine. Anche se è stata una donna, una donna che ha obbedito al Signore, ha avuto fede in Dio, capite? Una donna da imitare certamente nella fede, nell'obbedienza, nel servire Dio. Ma nulla a che fare questo, nel imitare una donna santa, nulla a che fare con adorarla, servirla e baciarla, pregarla, baciare le statue e pregare questa donna, che comunque era pur sempre una creatura come tutte le altre. Bene? Quindi era una creatura come tutte le altre. Quindi non si doveva, non si può, non si doveva prima e non si può neanche adesso renderle un culto e un servizio, perché ciò è idolatria. Però nel nostro caso voglio fermarmi solo alla questione della verginità, voglio approfondire questo. Non si può neanche dire, non si può neanche dire che Maria è rimasta sempre vergine. E cominciamo a citare di nuovo il passo di Matteo 1,25 che disturba, disturba moltissimo quelli che vogliono asserire che Maria è stata sempre vergine. Cosa dice qui? Sempre a riguardo dell'adempimento delle scritture. Dice che Giuseppe non la conobbe finché non ebbe partorito un figliolo. E questo era secondo le scritture. Perché fino alla nascita di Gesù era scritto che non doveva conoscerla il marito, capite? Fino a quando? Quindi le scritture, fino a dove arrivavano, dove giungevano, il limite delle scritture per quanto riguarda la verginità di Maria, dove arrivavano? Ecco, e questo è il punto a cui molti... ecco perché dà fastidio questo passo? Perché il limite segnato dalle scritture per quanto riguarda la verginità di Maria è segnato qui. E fino a che non partorisce il figliolo. Finché vuol dire fino a quando? Quindi l'obbligo di Giuseppe di non conoscere Maria, l'obbligo gli era imposto fino a questo limite, cioè fino a quando non sarebbe nato Gesù, capite? Ecco perché dà fastidio, perché qui c'è il limite. Finché non ebbe partorito un figliolo e gli pose il nome Gesù. Quindi stiamo parlando di Gesù. Un'altra questione nasce sulla dare spiegazioni sulla parola conobbe. perché il Dio così ha voluto, usa le parole il Signore. Allora, una cosa di cui dobbiamo stare attenti con le scritture è che magari nelle scritture viene utilizzata una parola con un determinato significato, capite? Quindi la parola conoscere nella scrittura può essere utilizzata o per sapere qualche cosa, no? Attinente al sapere, a quello che ti è stato fatto conoscere. Ma in taluni casi può essere anche riferito a, come in questo caso, il rapporto carnale. Noi dimostriamo, voglio dimostrarvi, voglio dimostrarvi attraverso le scritture che la parola conobbe viene utilizzata in diversi posti nelle scritture per, si sostituisce praticamente alla parola rapporti normali, carnali, tra marito e moglie. E quindi qui, quando in Matteo 1,25 c'è scritto che Giuseppe non la conobbe, vuole proprio dire, non che non l'ha conosciuta come persona, ma che non la conobbe, non ebbe rapporti con lei, capite? Questo è il significato. Quindi sia la parola finché, sia la parola conobbe, a questi dà fastidio. Perché? Perché cercano di distruggere e non possono fare altrimenti, perché per giustificare la loro teoria che Maria è stata sempre vergine, devono distruggere, cercare di distruggere, perché nulla si può contro la verità. Quello che possiamo è solo a favore della verità, perché la verità non può essere distrutta, annullata, capite? Soprattutto non si può annullare la verità della parola di Dio, questa rimarrà sempre, capite? Perché la parola di Dio è vivente. La parola d'uomo, che è carne e polvere, un vapore d'acqua, un filo d'erba che oggi c'è e domani non c'è più, le parole dell'uomo non possono mai sopprastare alla parola di Dio vivente e vero. Quindi noi ci dobbiamo sottomettere a quello che dice la parola, non dobbiamo modificarla per far sì che la parola dica quello che a noi ci piace. Quindi abbiamo visto che c'è scritto in Matteo 1,25 che Giuseppe non la conobbe nel periodo fino a quando, nei nove mesi praticamente, non la conobbe fino a che non ebbe partorito, capite? Quindi il limite, che poi è anche quello della scrittura, arriva fino al partorire. Dopo non ci sono più limiti, non ci sono limiti scritturali, capite? Non ci sono. E quindi Giuseppe poteva avere rapporti con Maria come hanno avuto tutti, come hanno tutti i mariti con le proprie mogli, capite? Ma questa parola, ecco, concentramoci sulla parola. Allora, ragioniamo. Ragioniamo anche leggendo dal Vangelo di Lucca, quindi confermiamo adesso che la parola lì conobbe si intende proprio ad un rapporto tra un uomo e una donna, cioè tra marito e moglie. Leggiamo quello che è scritto nel Vangelo di Lucca, quando l'angelo annunzia a Maria il suo concepimento e il partorire di Gesù. Prima l'abbiamo letto da Matteo, adesso lo leggiamo dal Vangelo di Lucca. Allora, dal Vangelo di Lucca, capitolo 1, dal versetto 26, leggiamo queste parole. Al sesto mese, qui apro una parentesi, al sesto mese si intende al sesto mese di concepimento di Elisabetta che aveva in grembo Giovanni Battista, capite? Quindi il sesto mese si riferisce a quello, detta Nazareth. Ad una vergine, quindi, rileggo, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, detta Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse ti saluto o favorita dalla grazia. E il signore è tecco. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. fino a qui. Intanto voglio siccome sempre a Maria sono legate anche altre cose sbagliate al versetto 28 quando l'angelo ti dice ti saluto o favorita dalla grazia. Alcuni hanno trasformato questo saluto in maniera sbagliata perché il saluto cosa vuole far capire? Ti saluto o favorita dalla grazia vuol dire che l'angelo fa sapere a Maria che Maria è la destinataria della grazia di Dio, del favore di Dio. Capite? Non stava dicendo che Maria è piena di grazia che la poteva lei elargire la grazia a tutti. Lei è semplicemente la destinataria della grazia. Infatti al versetto 30 è confermato. Dice non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Vedete? Quindi Maria era destinataria della grazia di Dio non era quella che elargiva le grazie di Dio agli altri che come vogliono farla passare i cattolici o altri simili a loro. Però a noi ci interessa approfondire l'altro argomento. Quindi l'angelo dice a Maria che avrebbe concepito e partorito un figliolo. Ma lei capisce Maria che è qualcosa di imminente, cioè doveva avvenire di subito. Ma lei era stata promessa sposa a Giuseppe, doveva ancora andare, Giuseppe doveva ancora prenderla con sé. Quindi giustamente lei umanamente parlando il problema se l'è posto. Dice ma come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Come avverrà? Come posso concepire umanamente se io non conosco uomo? Cioè sarà una cosa che avverrà dopo quando io mi congiungerò con mio marito? Perché non può essere una cosa imminente di adesso. Perché? Perché io non conosco uomo. Come faccio a rimanere incinta? Diceva Maria. E qui l'angelo risponde. Come farà? E dice lo Spirito Santo verrà su te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Ma attenzione, questa potenza dello Spirito Santo che viene su Maria, come ho già detto anche, non avviene nulla di carnale. Attenzione, eh? Cioè non avviene nulla di carnale. Perché? Perché Maria è rimasta vergine sia al concepimento ma anche era vergine al partorire. Quindi comunque sia non c'è stato niente che si possa somigliare a un rapporto carnale. Ma la potenza dello Spirito Santo l'ha fatta rimanere incinta. E su questo voglio dire anche di più. Su questo voglio dire anche di più. In realtà, in realtà, anche le donne che rimangono incinte nel rapporto normale, normale, anche nel rapporto normale, rimangono incinte perché Dio visita quella donna e comunque opera una sua, con la sua grazia, egli opera e la fa rimanere incinta. Ecco perché alcune rimangono incinte e altre no. Perché quelle che Dio ha deciso nel momento che lui ha deciso rimangono incinte, le altre ancora no. Però per Maria è stato qualcosa, mentre per tutti gli altri uomini e donne, mariti e moglie che si congiungono e comunque Dio visita la donna per farla rimanere incinta, per Maria è comunque avvenuto in maniera diversa. Cioè la potenza dello Spirito Santo ha adombrato dell'ombra sua Maria ed è rimasta incinta senza nessun rapporto carnale, senza nessun, nessun, diciamo, nessun elemento che possa essere riferito in qualche modo a un rapporto. Ma solo per la potenza di Dio. Dobbiamo notare anche che Maria dice, disse all'angelo, no? Ma come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Vedete? Di nuovo qui la parola conoscere non va intesa come non conosco nessun uomo, perché non era vero che Maria non conosceva Giuseppe o non conosceva altri uomini. Li conosceva, nel senso sapeva i loro nomi, sapeva dove abitava, non sapeva, magari era cresciuta con loro, sapeva tutto di certi uomini. Ma in questo caso, anche in questo caso, la parola conoscere viene utilizzata per fare riferimento a un rapporto che è normale, ma in questa maniera, guardate la gloria di Dio, usando la parola conoscere e non nessun'altra parola, non ti viene mai in mente, cioè tu pensi a quel fatto, ma non pensi a nessuna cosa contaminante o che comunque ti può rendere impuro. Quindi siccome parlare di queste cose, noi in alcuni punti della scrittura, l'Apostolo Paolo dice che di certe cose non se ne dovrebbe neanche parlare, perché? Perché, diciamo, se si entra in certi dettagli ci si può contaminare. Siccome qui era importante parlare anche di come Gesù è stato concepito, sono state utilizzate le parole giuste che comunque non ti faranno mai pensare e non ti contamineranno, capite? Perché se uno dice il rapporto carnale, tu pensi al rapporto carnale, ma se tu dici Maria, Giuseppe ha conosciuto Maria, non ti viene niente di, cioè capisci di che cosa sta parlando, ma non ti viene in mente nulla che possa essere di contaminante, capite? Perché la parola di Dio è pura, è affinata col fuoco, capite? Ecco perché alcune, come questa parola, è stata utilizzata una parola comune che non subito ti fa immediatamente pensare a tutte le cose che riguardano, diciamo, un rapporto tra marito e moglie. Però il riferimento è chiaro. Questo può essere uno dei motivi per cui Dio parla in questa maniera, capite? Quindi non è che si è sbagliato a parlare il Signore, ha le sue motivazioni, ha le sue motivazioni. Quindi qui, anche qui, vedete, Maria riferisce la parola conoscere, cioè si riferisce alla parola conoscere che non conosceva uomo, cioè non aveva avuto rapporti con nessun uomo, di conseguenza come faceva a rimanere incinta? Cioè come faceva ad essere incinta se lei non aveva avuto rapporti? Ritraducendo quella parola. E l'angelo gli ha risposto, come abbiamo visto. Ma la parola conosce, conobbe in modo particolare, adesso andiamo, la troviamo, la troviamo anche che è scritta in altri punti delle scritture, a conferma sempre dello stesso significato. Quindi se noi andiamo nel libro della Genesi, il primo libro, il primo libro, la Genesi, al capitolo 4 di Genesi, al versetto 1, è scritto Vedete? Adamo conobbe Eva, cosa è successo? Dopo che Adamo conobbe Eva, la conseguenza qual è stata? La conseguenza dopo che Adamo, che era marito di Eva, infatti c'è scritto Eva, sua moglie, Adamo conobbe Eva ed ella concepì e partorì. Vedete? Quindi la conseguenza di questo conobbe è che la moglie di Adamo concepì e partorì. Quindi non ci possono essere dubbi interpretativi sul significato di questa parola, della parola conobbe. Vuol dire quello che un marito ha un rapporto con sua moglie. Da quel rapporto si può concepire, in questo caso che abbiamo letto ha concepito e poi ha partorito un figliolo. Quindi il significato della parola conobbe è quella, è quella. Come lo è qui, lo è anche in Matteo 1,25 dove c'è scritto che Giuseppe non la conobbe. Ma andiamo avanti, sempre Adamo, sempre capitolo 4 al versetto 25 perché dopo che nacque Caino, poi nacque anche Abele, Caino uccise Abele. Intanto gli anni passano perché passano tanti anni, adesso non è scritto in maniera chiara, ma gli anni passano, capite? Nei versetti si susseguono un versetto dopo l'altro, ma passano forse decine e decine d'anni. Però non voglio aprire questo discorso, magari lo apriremo un'altra volta perché c'è scritto anche che Caino conobbe sua moglie e partorì. E sua moglie, al versetto 17, Caino conobbe la sua moglie. Ma le domande sono come ha conosciuto sua moglie Caino? Vabbè, qui c'è tutto un altro discorso da fare che non possiamo aprirlo adesso perché il nostro obiettivo è parlare del significato della parola conobbe, che cosa si intende con quella parola. Noi adesso leggiamo al capitolo 4, versetto 25. E Adamo conobbe ancora la sua moglie ed essa partorì un figliolo a cui pose nome Seth. Vedete? Qui prima abbiamo visto Adamo conobbe Eva ed essa partorì. E al versetto 25 leggiamo Adamo conobbe ancora Eva. Quindi è chiaro che non si sta riferendo al semplice significato del verbo conoscere, cioè apprendere qualche cosa, venire a sapere qualche cosa. Non è quello il significato. Il significato lo vediamo dalla conseguenza. Adamo conobbe ancora sua moglie. Cosa è successo? Qual è la conseguenza di questo conoscere? Essa partorì un figliolo. Concepì e partorì un figliolo. Quindi è chiaramente che quella parola conobbe si riferisce al rapporto che Adamo aveva avuto con sua moglie. Che è il rapporto che devono avere tutti i mariti con le loro proprie mogli. Capite? Ma ce ne sono ancora, ne voglio citare ancora qualcuno. Andiamo anche in Prima Samuele. Parliamo anche della nascita di Samuele. Perché anche questa è stata... E qui c'è anche il concetto che vi ho espresso prima. Capitolo 1 di Prima Samuele. Versetto 19 L'indomani sta parlando di Anna, moglie di Elcana. Allora, la premessa è questa per capire il versetto. Elcana era sposato con Anna. Anna era sterile. Non poteva avere figli. E Anna pregava il Signore che la facesse rimanere incinta. Nel versetto 19 di Anna si dice questo. L'indomani ella e suo marito alzatesi di buon'ora si prostarono dinanzi all'Eterno poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana conobbe Anna, sua moglie e l'Eterno si ricordò di lei. Vedete? Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliolo al quale pose nome Samuele. Vedete? Anche qui, quindi, c'è scritto che Elcana conobbe sua moglie Anna. La conobbe. Cioè, ebbe rapporti con lei. Poi cos'è successo? Perché uno dice se è una cosa scientifica, se è una cosa semplicemente una conseguenza di un'azione fisica uno ha un rapporto e dovrebbe sempre nascere un figlio. No? Naturalmente se non ci sono impedimenti vari se uno non impedisce il concepimento che ricordo che questo è peccato impedire il concepimento. Però, nel caso normale senza impedire il concepimento un uomo ha un rapporto con una donna dovrebbe sempre se fosse una cosa lineare diciamo così se dipendesse da quest'azione il nascere di un figlio dovrebbe arrivare sempre a ogni rapporto. Invece cosa dice qui? Come ci risponde la parola anche su questo? La parola ci dice che siccome sappiamo che Anna era sterile quindi non poteva averne dice che l'Eterno si ricordò di lei cioè l'Eterno l'iddio nostro può visitare una donna può ricordarsi di quella donna e questa rimane incinta partorisce un figliolo capite? Alla fine tutti i figlioli che arrivano sono sempre volontà di Dio solo che questa è un altro tipo di volontà cioè avviene avviene come ha detto il salmista sempre attraverso il peccato e l'iniquità capite? C'è una contaminazione comunque quindi chi nasce non è perfetto chi nasce non nasce senza peccato capite? ecco perché per Gesù si è dovuta fare una differenza perché Gesù doveva essere senza peccato ed è quindi stato è nato senza peccato perché? perché è stato concepito non nel peccato il suo concepimento è stato puro e santo effettuato dallo Spirito Santo per rendere il culto a Maria voglio aprire ogni tanto una parentesi che riguarda altre cose di Maria però sono importanti addirittura addirittura diciamo per far sì che Maria possa essere possa essere ritenuta senza peccato perché anche Maria viene ritenuta una donna senza peccato alla pari di Gesù da questi idolatri dicono che anche Maria è stata concepita senza peccato ecco questo non è possibile perché Maria di Gesù soltanto si dice che è stato concepito in maniera con un segno potente di Dio tutti gli altri uomini sono stati concepiti normalmente da un rapporto tra uomo e donna ad esclusione di Adam e Deva Adam e Deva non sono nati da un rapporto carnale Adam e Deva sono già stati creati così da Dio quindi i primi due sono stati creati in un modo Gesù è stato concepito senza peccato in un particolare tipo di modo tutti gli altri invece sono nati attraverso il rapporto normale tra marito e moglie comunque sia perché uno dice vabbè ma ci sono anche quelli che vengono concepiti in vitro no? va bene rispondiamo anche a quelli comunque sia anche quel tipo di concepimento che noi abborriamo però riconosciamo che ci possa essere avviene attraverso diciamo elementi dell'uomo chiamiamoli così è un elemento della donna quindi l'ovulo della donna con il seme dell'uomo c'è sempre questo congiungersi anziché avvenire all'interno della donna questo avviene fuori avviene in altro modo adesso secondo i procedimenti scientifici che vogliono utilizzare che noi abborriamo che noi abborriamo però purtroppo sappiamo che esistono ora la domanda che dobbiamo porci deve essere anche questa ad esempio ma non poteva scriverlo chiaramente il signore ma il signore parla come vuole lui ad esempio vi faccio un esempio vi faccio un esempio sempre attinente al concetto che stiamo spiegando se noi leggiamo cosa è successo al re Davide quindi andiamo a leggere nel libro dei re primo re primo re libro di primo re capitolo 1 cosa succede succede che Davide era vecchio il re Davide era vecchio voi sapete un po' la storia di Davide no il re Davide aveva subito una guerra familiare contro Absalom Absalom si era giaciuto con le sue mogli e Davide dopo che era successo questo li aveva messi da parte faceva in modo che venissero alimentate vivessero ma non aveva più rapporti con le sue mogli quando è diventato vecchio è scritto qui in prima re che Davide era vecchio e non riusciva a riscaldarsi da solo allora i suoi servitori cosa hanno pensato hanno pensato di farlo dormire con una fanciulla vergine di nome Abisag o Abishag se volete e di questa donna di questa fanciulla è scritto questo la fanciulla al capitolo 1 versetto 4 voi leggete tutti i versetti per capire il contesto che io vi ho accennato però a noi ci interessa in riferimento alla spiegazione alla riflessione sulla parola conobbe ci interessa il versetto 4 che dice la fanciulla era bellissima aveva cura del re e lo serviva ma il re non la conobbe vedete qui il signore ci ha tenuto ci ha tenuto a dirlo ma non la conobbe quindi Davide non conobbe in nessuna maniera questa fanciulla giovane ed era vergine e vergine con Davide è rimasta poi se si sarà sposata la voleva sposare diciamo un uomo dopo per questo è stata messa a morte da Salomone comunque per quanto riguarda il rapporto di questa donna con il re si dice chiaramente che il re non la conobbe cioè qui possiamo dire che Davide non è che non la conobbe un giorno o non la conobbe fino a un certo contesto no non la conobbe punto quindi se il signore avesse scritto nel passo che abbiamo citato di Matteo 1.25 Giuseppe non la conobbe punto voleva dire che Maria che Giuseppe non ebbe mai conosciuto non ebbe mai avuto rapporti con Maria invece il Dio non voleva dire quello perché non è avvenuto quello e ne abbiamo le prove bibliche perché abbiamo anche i nomi dei fratelli di Gesù abbiamo la scrittura ci dice anche che ci sono le sorelle di Gesù la scrittura dice dice appunto che Giuseppe non la conobbe finché e c'è questo finché pone il termine capite pone il termine della del periodo in cui Giuseppe non conosce Maria il termine era fino alla nascita di Gesù ecco fino a lì non la doveva conoscere come dicevano le scritture perché la vergine doveva partorire ma dopo non essendo più vergine sia perché il bambino è nato non non avendo più l'impedimento delle scritture che si dovevano adempiere perché si erano adempiute non c'erano più impedimenti di nessun genere di nessun tipo ma è normale che Giuseppe dopo ha avuto rapporti normali con sua moglie come hanno tutti i mariti e tutte 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 le mogli quindi vedete se ha scritto in prima re il Dio ha voluto dimostrare che se volesse se avesse voluto il Dio dire che Maria non avrebbe mai conosciuto Giuseppe lo avrebbe scritto lasciato scritto in un certo modo come l'ha scritto per il re Davide per il re Davide ripeto dice ma il re non la conobbe punto il re non la conobbe e questo e qui non possiamo interpretare in altro modo cioè non possiamo capire altre cose se non quella che il re Davide non conobbe mai quella vergine eppure attenzione da tenere conto che quella vergine dormiva stretta a Davide per riscaldarlo capite però il Dio ha voluto lasciare scritto che anche se avveniva questo Abisag era vergine era rimasta vergine finché perché il re Davide non la conobbe di Giuseppe è detto non la conobbe finché non ebbe partorito il suo figliolo primogenito quindi è chiaro anche quello che è scritto in Matteo 1.25 è scritto che la condizione in cui fino a quando Giuseppe non ha conosciuto Maria è fino al momento di partorire il figliolo Gesù e questo fratelli e sorelle era il messaggio che volevo darvi questa sera e spiegarvi farvi riflettere su alcune cose che riguardano la verginità di Maria secondo le scritture a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amèn a Dio